Buongiorno a tutti in Brassile, buon pomeriggio in Italia, mi chiamo Adriana Mira, sono il segretario generale della Camera di Commercio Italo-Brasiliana San Paolo, vi ringrazio per la partecipazione in questo webinar con un focus speciale sul Brassile e gli strumenti di finanza agevolata per le aziende italiane che vogliono investire in Brassile. Per fare un saluto di apertura do la parola al Presidente della Camera di Commercio Italo-Brasiliana San Paolo e il Dottor Graziano Messana. Presidente, a lei la parola. Grazie Adriana, benvenuto al Dottor Claudio Calvani. Questo è un evento particolare, noi abbiamo fatto in quest'ultimo anno moltissimi eventi, ieri l'ultimo, lunedì anche con Simest, un evento ufficiale dove chiaramente sono presentati i prodotti finanziari, le soluzioni, le azioni che in questo momento sono più in voga e che quindi magari Claudio Calvani vi spiegherà. Questo evento dove nasce? Nasce dal fatto che abbiamo voluto destinare alle aziende nostre premium, a dei selezionati contatti, l'opportunità di avere non dall'altra parte, come è successo già lunedì, Simest che banalmente spiega in una slide dei prodotti, ma avere un esperto che invece fa questo di lavoro. La società VVA di Claudio Calvani è anche lei un associato premium, solo che dall'altra sponda, è a Milano, è in Italia ed è, diciamo, loro da vent'anni fanno questo tipo di attività, per cui le aziende che sono qui con delle filiali, io vedo che alcune qui, la maggior parte hanno già filiali in Brasile, altri probabilmente sono collegati perché hanno dei progetti in caldo e quindi hanno il desiderio di capire come approfittare di queste soluzioni. La idea è stata quella di fare un dibattito, quindi con non tante slide e presentazioni, ma avere poi una tavola rotonda dove voi potete fare un dibattito, fare le domande che servono puntualmente, quindi bersagliare, dottor Calvani, tutte le domande che sono utili al fine di valutare come questi singoli progetti, poi sono sette, otto prodotti che magari poi lui illustrerà, possono andare a beneficio delle vostre filiali o dei vostri progetti sul Brasile. Quindi questa è un po' l'idea, un evento a porte chiuse e sono contento che appunto si possa proporzionare questo ai nostri associati, per cui vi lascio a questo dibattito e mi auguro che sia proficuo. Ok? Buon lavoro, grazie per la partecipazione, grazie ad Adriana Mira, Fabio Selanne e alla regia per il supporto che sempre danno in modo impeccabile e quindi l'ospite d'onore lo lascio introdurre ad Adriana, no? Sì, grazie. Buon evento a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie. Rimango un pochino e poi là, vi lascio. Grazie, grazie di essere qui con voi. Come ha detto il presidente Messana, questo evento è stato creato esclusivamente per voi, i nostri soci, e sarà veramente opportuno, dopo l'intervento del dottore Calvani, aprire i microfoni, le camere, di tutto, creare un format più dinamico e così io, diciamo così, controllo un po' l'ordine di coloro che vogliono prendere la parola. Come partner di questo evento abbiamo la VVA Adepti Grant, che è la divisione del gruppo VVA, che offre consulenza finanziaria volta all'individuazione e al reperimento di forme di finanziamento agevolato, calmierato e alternativo. Quindi invito il nostro oratore di oggi, il dottor Claudio Calvani, founder e partner di VVA Adepti Grant. Dottor Calvani, a lei la parola. Grazie, grazie Adriana Mira, grazie a Graziano Messana per l'invito. Sono molto contento di essere qui con voi in questa oretta e come ha detto giustamente Graziano, ritenete questo non tanto un comizio ma una presentazione, un'istantanea di quelli che sono gli strumenti ad oggi, con particolare e ovvio focus sugli strumenti di Simest, perché sono quelli in questo momento più sexy, passatemi questo termine, e fate tutte le domande, fate tutti i commenti che volete, che sia un'ora interattiva di confronto. Io ringrazio anche Italcam, di cui siamo felicemente premium partner, pensiamo che da questa partnership possa davvero esserci un valore aggiunto da dare alle società che si affacciano sul territorio oppure che sono già sul territorio ma che vogliono potenziare, vogliono migliorare le opportunità di funding dall'Italia. Io come già detto in presentazione sono Claudio Calvani, sono partner di VVA Debt & Grant, che è la società del gruppo VVA che si occupa di reperire forme di finanziamento agevolato e alternativo. vi faccio vedere una schermata molto rapida del gruppo in maniera tale che possiate vedere anche il resto del gruppo. VVA sta per Valdani e Vicari associati, sono due professori della Bocconi che negli anni 90 hanno creato questa società. In questo momento si occupa sin dall'inizio di business consulting, di expert opinion, quindi tutto il tema della fiscalità internazionale e dei patent box in partnership con Bonelli e Rede. Nel 99 crea un'unità di market research e nel 2008 creiamo un ufficio a Bruxelles per supportare le società che sono alla ricerca di progetti comunitari, soprattutto a valere sui fondi perduto per la ricerca e sviluppo. Io porto nel 2020 il mio team e quindi dal 2020 il gruppo VVA si occupa anche di recuperare finanza buona, quindi finanziamenti agevolati delle regioni, dei ministeri appunto della comunità europea grazie ai colleghi anche di Bruxelles e tutto quello che è finanza alternativa, quindi emissioni obbligazionari dove però ci deve essere sempre una contaminazione del mondo agevolato, quindi o gli investitori devono essere pubblici come cassa depositi e prestiti oppure ci devono essere delle forme di garanzia come per esempio la garanzia del medio credito centrale. Il debt and grant a me piace immaginarlo così, è sostanzialmente il modo con cui una macchina d'epoca vuole diventare un po' più veloce ma anche avere una carrozzeria più forte e quindi il debt and grant è quella cassetta degli attrezzi che se monitorata ogni periodo dà la possibilità al CFO, dà la possibilità alla proprietà, alla società di non perdere nessun tipo di forme di funding dalle regioni fino ai basket bond, quindi alle emissioni obbligazionali che possono rendere lo sviluppo un po' meno oneroso, quindi non solo seguendo il binario tradizionale delle banche ma cercando ogni tipo di pertugio finanziario che siano gli strumenti delle regioni, strumenti dei ministeri come per esempio quelli che vedremo oggi di Saci e Simest, il BEI, Banca Europea per gli investimenti, fino appunto agli strumenti della comunità europea. Noi distinguiamo tra debt and grant nel senso che tutto quello che è grant è tutto quello che poi atterra più o meno a fondo perduto, sono gli strumenti delle singole regioni, i crediti d'imposta, quindi gli incentivi automatici che impattano soprattutto su investimenti in maniera retroattiva, i bandi ministeriali, quindi i bandi del MISE, del MIUR, del MEF, appunto quelli che vedremo oggi di Simest e i bandi comunitari, quindi i nuovi strumenti Horizon 2020 del nuovo settennato della comunità europea o i fondi strutturali che aiutano le società a investire nei paesi appena entrati nell'Europa. Per debt intendiamo invece tutto quello che non è fondo perduto ma è un modo più buono, più umano, più potabile di avere i finanziamenti. Quindi i basket bond sono l'ultima versione dei mini bond dove più società si mettono insieme per emettere un bond più grande, sottoscritto soprattutto da investitori pazienti istituzionali come Cassa Depositi e Presidi, Mediocredo Centrale, con delle forme garanzie che alla fine della fiera permettono di avere uno spread più buono rispetto al fatto che la stessa società possa andare dagli investitori alternativi ad emettere un singolo bond. Tutte le piattaforme fintech, in questo momento c'è il proliferare dei private debt delle fintech, c'è piattaforme e fondi privati che finanziano le aziende con fondi dei propri clienti, quindi che fanno raccolta precedentemente e poi finanziano direttamente la PMI e la MidCap. Gli ultimi sono gli strumenti sovranazionali, quindi super partes ai paesi c'è la Banca Europea degli Investimenti e Banca Mondiale che possono finanziare direttamente le società. Cosa fa il gruppo, il team di VVA Debt & Grant fa un'attentissima prefattibilità, quindi prima di iniziare il lavoro con l'azienda e eventualmente scambiarsi le varie lettere di incarico, noi facciamo for free, come iniziativa gratis, come investimento relazionale, una prefattibilità su quanto e come la società può attingere a queste forme. Questo per evitare di condividere con la società delle aspettative che poi non possono essere messe a terra. E anche far perdere tempo un po' a tutti, nel senso che se poi la società non ha determinate caratteristiche in termini di elegibilità, come il codice dell'attività economica, gli ultimi financials o addirittura il progetto, è inutile poi imbarcarsi in un progetto, in un iter deliberativo che poi, prima o poi, sfocerà in un diniego. Meglio fermarsi prima. Nel momento in cui la prefattibilità dà esito ok, noi seguiamo tutto l'iter fino a quando la società nella rendicontazione ha ricevuto tutto l'euro che gli spetta. Quindi facciamo il piano finanziario, facciamo l'infomemo, partecipiamo alla due diligence con l'interrogante, arriviamo fino al termici e poi li seguiamo fino a quando davvero è arrivato l'ultimo euro disponibile. I settori dove il debt and grant danno più valore aggiunto sono soprattutto il manifatturiero e il commerciale. Perché questo? Perché tipicamente la finanza agevolata nasce negli anni 90 dove il settore della manufattureria e quella del commercio sono state tipicamente le locomotive dell'imprenditoria. Nel tempo però settori tecnologici, settori farmaceutici, soprattutto per esempio in questo momento, ma tutto il mondo energetico gode di binari di debt and grant dedicati e quindi le attività che sono particolarmente supportate da queste temate di debt and grant sono la ricerca e sviluppo, tutto quello che ha a che fare con il green, l'environment, il social, quindi il mondo ESG, tutto quello che è infrastrutturale, quindi che non prevede un progetto tecnologico, un progetto ESG, però prevede un revamping di impianti produttivi o l'apertura di impianti produttivi è supportabile. Quarta gamba che è quella che vedremo oggi, l'internazionalizzazione, quindi tutto quello che prevede l'apertura, il passaggio dalla vendita all'estero alla internazionalizzazione in termini come filiali commerciali, prefattibilità, fiere, lo vedremo dopo, è supportato da una serie di strumenti. Oggi ovviamente ci focalizzeremo quindi sugli strumenti per l'internazionalizzazione. Ho voluto inserire un esempio di strumentazione regionale per farvi capire che il debt and grant è flessibile e il vantaggio del debt and grant è che cerca in un determinato momento tutte le forme di funding agevolato e alternativo. Quindi in questo momento è chiaro che per l'internazionalizzazione non c'è nulla paragonabile agli strumenti della CIMES, però per esempio già da luglio determinate caratteristiche che nel click day del 3 giugno ci sono scompariranno e quindi un advisor di debt and grant deve essere bravo nell'individuare tutti gli strumenti, dalle regioni, ai ministeri, alla comunità europea, sovranazionale, alle alternative, perché in ogni momento deve offrire alla propria clientela una panoramica degli strumenti migliori in quel momento. Quindi ho voluto inserire quello che comunque in questo momento è uno strumento della FinLombarda, della finanziaria per la regione Lombardia, al servizio dell'internazionalizzazione. Quindi ora non so se tra gli uditori ci sono o meno società italiane lombarde, però per intenderci questo è un esempio, se ci dovessero essere altre esigenze di altre regioni chiaramente li studieremo ad hoc. Questo è uno strumento che in questo momento è chiuso ma a momenti dovrebbe essere riaperto, supporta l'internazionalizzazione delle imprese da 40.000 a 500.000 euro con sei anni di finanziamento, due anni di preammortamento, finanziamento agevolato all'80%, contributo a fondo perduto del 20%. Cosa possiamo inserire? Fiere, istituzioni temporanee all'estero di showroom, azioni di comunicazione, consulenze relative al progetto, siti web, certificazione, personale dipendente per un massimo del 20% e spesa forfait del 7%. Entriamo nel cuore di questo intervento è di quello che in questo momento è davvero un plotone di esecuzione per l'internazionalizzazione. Il prossimo 3 giugno riapriranno i bandi della Simest che sono chiusi tra settembre e ottobre. Le caratteristiche di mix di beneficio tra fondo perduto e finanziamento agevolato al momento non sono ancora molto chiare. Io vi darò quello che la mia pancia pensa alla luce di varie verifiche e di varie fonti che ha recuperato nel tempo. Sicuramente lo strumento principe è la 133. Quindi in caso di aperture di nuove filiali commerciali all'estero o rafforzamento, ampliamento, sostituzione di filiali esistenti, c'è la possibilità di ottenere fino a 4 milioni di cui un pezzo a fondo perduto, un pezzo di finanziamento agevolato da restituire in sei anni. Che cosa si intende per filiale commerciale? Fino a tre uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a tre centri di assistenza post vendita. È possibile finanziare anche un magazzino, un centro di assistenza post vendita anche in Italia se accessori al programma di internazionalizzazione. Il finanziamento agevolato è certo, nel senso che avrà lo 0,055 tasso finito, mentre sul fondo perduto ci sono classi di pensiero. C'è chi ritiene che, visto che la normativa parla di 50%, sarà il 50%, c'è chi sostiene che sarà confermato la percentuale del primo slot, quindi del 40%, c'è chi invece, come me, pensa che sarà ridotto ulteriormente e quindi il fondo perduto avrà un 30%. La restante parte, comunque, è di finanziamento agevolato senza garanzie. Cosa viene finanziato? In caso di NUCO vengono finanziate due anni di start-up in termini come affitti, personale, consulenze, marketing, più un 20% forfait. Per NUCO si intende tutto ciò che non è più antico di 12 mesi, quindi se la società è stata creata otto mesi fa per la Simest è ancora un NUCO. In caso di potenziamento, invece, sono tutte le società che hanno più di un anno di vita e quindi dobbiamo avere un potenziamento del presidio esistente, un affiancamento, quindi non avevamo uno showroom, non avevamo un magazzino e lo inseriamo, ed è finanziabile per le spese di struttura tutto quello che è incrementale. Mentre tutto quello che è marketing, comunicazione, viaggi, quello lì, possiamo inserire il budget che c'era prima, lo possiamo inserire per i prossimi due anni, più il 20% forfait che non va assolutamente giustificato. Questo è l'altro strumento che è sempre noto per aperture al capitale di società estere, quindi in caso di progetti produttivi che sono, diciamo, subito dopo il periodo, il momento nella catena del valore del prodotto, dopo il post vendita, quindi tutto quello che è dopo il post vendita, quindi termini produttivi, la Simest può entrare nel capitale di società esistenti, di società da acquisire, ognuco da creare, fino al 49% e aggiunge un contributo conto interesse pari a, diciamo, dovreste essere in questo periodo circa l'1% su interessi che la società paga per finanziare il proprio 51%. Diciamo che dentro possiamo anche richiedere un pezzo per il fabbisogno del circolante, ma il tema principale è che la società deve essere capitalizzata, quindi tipicamente loro entrano in un approccio di aumento di capitale sociale. Qui non abbiamo né fondo perduto né finanziamento agevolato, ma è un aiuto all'equity più un finanziamento, un contributo conto interesse su un finanziamento che la società accende in Italia per supportare la propria quota. Questo strumento è uno degli strumenti che più ha avuto successo nello slot di settembre-ottobre perché non finanzia un progetto, ma finanzia le caratteristiche di una società. Se la società, fino alle mid-cap, quindi PMI e mid-cap, hanno un fatturato estero almeno pari al 20% nell'ultimo bienio o il 35% dell'ultimo anno e hanno un indice di patrimonializzazione non superiore a 2% per le imprese manufatturiere, 4% per quelle dei commerciali servizi, possono ottenere fino a 800.000 euro come nel primo slot c'è stato 40% a fondo perduto e il resto finanziamento agevolato. In questo slot la mia sensazione è che questi 800.000 euro massimo verranno dati tutti in finanza agevolata. Quanto è il tasso? È lo 0,055, che è quello che abbiamo visto prima per l'inserimento nei mercati esteri, a partire dal terzo anno. I primi due anni è lo 0,5% in preammortamento, sempre senza garanzia. Questo perché? Perché al completamento del secondo anno la Simes fa un check del fatturato estero e del valore dell'indice di patrimonializzazione con cui siamo entrati. Se al terzo anno vengono confermati, partono i quattro anni allo 0,05. Se invece abbiamo fatto un passo indietro rispetto all'ingresso, anche gli altri quattro anni saranno allo 0,5%, sempre senza garanzie. Cos'altro riaprirà ed avrà anche un pezzo di fondo perduto? La partecipazione a fiere e mostre, quindi partecipazione a fiere e mostre e missioni di sistema. Qui avremo sempre un finanziamento agevolato che va a coprire le spese relative all'area espositiva, le spese logistiche, promozionali, le consulenze, fino al massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio, nel limite massimo di 150.000 euro. L'assistenza tecnica invece è la formazione del personale in loco dopo la realizzazione di progetti di investimento in paesi esteri, non antecedenti però 12 mesi rispetto alla data in cui viene presentata la domanda. In questo caso il finanziamento agevolato o il pezzo a fondo perduto qua vale l'idea che vi ho condiviso prima per l'inserimento dei mercati esteri. Secondo me sarà un 30% a fondo perduto, però spero di sbagliarmi, quindi sarà addirittura un 40 o un 50%. E il resto è agevolato, il massimale comunque non può superare il 15% dei ricavi medi degli ultimi due anni, nel limite di 300.000 euro per assistenza tecnica alla formazione e di 100.000 per assistenza post vendita. Studi di fattibilità, quindi se una società non ha ancora capito se aprire una filiale commerciale o insediarsi dal punto di vista produttivo oppure aprire un e-commerce oppure acquisire una target, può richiedere uno studio di fattibilità fino a un massimo del 15% dei ricavi medi degli ultimi biennio e nel limite massimo di 350.000 euro, 200 per investimenti commerciali, 350 invece per studi per investimenti produttivi. e riaprire anche l'e-commerce, quindi sviluppare nuove soluzioni di e-commerce all'estero tramite marketplace o una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la vendita di beni e servizi prodotti però in Italia e o distribuiti con marchi italiani. In questo caso possiamo avere sempre un mix tra fondo perduto e finanziamento agevolato fino al massimo del 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio, nel limite però di 450.000 euro per la piattaforma e 300 per il marketplace. L'ultimo strumento è il temporary export manager, quindi l'inserimento per un lasso di tempo provvisorio di professionisti specializzati nell'internazionalizzazione, in questo caso possiamo arrivare sempre al 15% dei ricavi medi dell'ultimo biennio, nel limite di 150.000 euro con un limite massimo di spese pari a 25.000. La durata del finanziamento è di quattro anni, di cui un anno di pre-ammortamento, due per il TEM e il tasso sarà sempre lo 0,055 dal primo anno del pre-ammortamento fino all'ultimo anno di ammortamento e le garanzie per questo ulteriore click day saranno esclusi, molto probabilmente da luglio saranno reintrodotti. Il fondo perduto comunque di gruppo non può superare per singolo strumento gli 800.000, ma di gruppo rientra nel temporary framework, quindi tutte le società del gruppo non possono ottenere più di un milione e otto di fondo perduto aggregato. Ho voluto concludere con tre casi che abbiamo seguito nell'ultimo slot. Ho voluto inserire due esperienze in Brasile e una negli Stati Uniti, non lontana. La prima, l'inserimento mercati esteri in un'azienda campana operante nel campo dell'ET, in cui il business consiste nell'affiancare i grandi gruppi nella trasformazione digitale. Parliamo di una società con 12 milioni di fatturato nel 2019 e che è presente in Brasile. Nel 2017 abbiamo supportato con un milione di finanziamento agevolato tramite la propria controllata all'85%. Nel 2016 invece abbiamo seguito un'altra società italiana che in questo momento fatturato consolidato fa 250 milioni di fatturato operativa nella produzione e commercio di sistemi portacavi che ha acquisito due società brasiliane industriali e la Simes è entrata nella holding che è stata creata poi per acquisire le due target per 5 milioni ed è qualche giorno fa è uscita perché la legge 100 prevede che a partire dal quinto anno e non più tardi dell'ottavo anno la Simes deve uscire ed esce al prezzo con cui è entrata chiedendo poi un corrispettivo per ogni anno. L'ultimo, ho voluto inserire un tema sugli Stati Uniti, qui l'ho voluto inserire perché molto spesso si pensa che per i ristoranti, gli alberghi, la ristorazione, questi strumenti non possono essere attivabili, invece no, lì abbiamo inserito un'azienda che ha aperto una partecipata locale americana e ha ottenuto nel 2019 un milione per l'apertura della struttura negli Stati Uniti. Questa è una società quotata a Lime che è anche controllata a Dubai, Hong Kong e New York. Io avrei finito, questi sono i miei riferimenti, siamo premium partner del progetto Elite di Borsa Italiana, siamo listing sponsor della Borsa Italiana di Extermot, all'interno di Borsa Italiana diciamo che rappresentiamo questi strumenti, molte aziende che seguono per questo percorso di eccellenza si affidano a noi per capire come questi strumenti del Tengret possono alleggerire e supportare meglio la crescita di queste aziende. Siamo a Milano, in via Torino e siamo a Bruxelles con l'altra sede. Avrei finito e ricedo la parola ad Adriano. Grazie, grazie dottor Calvane, la prego di aprire il suo video se riesce. È veramente un panorama completo delle opportunità, la ringrazio. Dediceremo adesso il tempo per le domande, dato che questo evento è stato creato esclusivamente per i nostri soci, e riteniamo importante veramente avere del tempo per chiarire i loro dubbi. Apriremo adesso i microfoni, le camere di tutte per creare un format più dinamico e per prendere la parola chiediamo gentilmente che possano soltanto cliccare nel bottone raise hands e alzare le mano e coloro che vogliono, io diciamo così controllo un po' l'ordine di coloro che vogliono, io chiedo a Gabriele che è nella regia per promuovere a tutti, aspettiamo un attimo che arrivano e facciamo, diciamo così, un salotto virtuale un po' andiamo a ingrandire un po' il salotto virtuale. Stanno arrivando, diamoci alcuni minuti. Chi vuoi aprire le camere è a disposizione, chiedo soltanto di mantenere un po' i microfoni chiusi e alzare le mani che così io controllo l'ordine delle domande, ok? Faccio io qui il controllo, se potete c'è. E mancano ancora alcuni. Ne mancano ancora due. Possiamo iniziare, se qualcuno vuole fare qualche domanda è alzare le mani e controllo io qua l'ordine, diciamo così, a chi do la parola. Possiamo così godere un po' di questo tempo del dottore Calvani con noi. Allora, ci siamo tutti? Prego. Forse è stata una presentazione troppo chiara. la competenza comunicativa del dottore Calvani ha reso tutti, diciamo così, ben informati. Non lo so se siamoci ancora. Se c'era qualche strumento dove sono andato un po' più veloce, se volete ritornare, io ritorno. non c'è un problema. Ah, Gabriela Di Salvio mi pare ha alzato le mani. Io vado e torno indietro perché non riesco a vedere tutti qua. Sì, Alessio, Alessio Marnardi pure. Alessio, prego, perché la dottorezza di Salvo non è entrata ancora. No, no, mi dispiace, tutto chiaro qua, Adriana. Ok, grazie, grazie a lei. Grazie, grazie mille per la presentazione. Grazie a lei per essere qui con noi. Prego, dottore Marnardi. Sì, buongiorno a tutti. Sicuramente è molto interessante. Se fosse possibile puoi condividere il video della presentazione perché credo di rappresentare un po' il pensiero di tutti. Normalmente rappresentiamo il branch office della società che poi sta in Italia, no? Quindi normalmente è interessante per noi conoscere questi strumenti perché ci servono poi sul mercato. ma poi chiaramente sono strumenti a disposizione della holding o comunque dell'azienda italiana. Quindi se per poter facilitare poi la comprensione dei colleghi italiani che non hanno partecipato a questa presentazione o il PowerPoint o comunque la registrazione del video sarebbe molto interessante per poter dar continuità al progetto. Sì sì, io ho già inviato la presentazione ad Adrianes e è assolutamente a disposizione. Ma mi leggo a questo nel senso che ovviamente io ho fatto un focus sugli strumenti di Siemens perché in questo momento sono i più interessanti e chiaramente sono più legati alla platea che ho di fronte oggi perché immaginavo che molti di voi come giustamente ha detto rappresentassero l'hub brasiliano della società italiana. Sappiate che la società italiana può utilizzare questi strumenti chiaramente per tutti i progetti di internazionalizzazione quindi se ci fosse un potenziamento brasile ma un'apertura india in realtà in concomitanza possono attingere sia per il potenziamento brasile che per l'apertura india e non solo. Io non ho fatto poi riferimento a tutti gli strumenti di cassa depositi e prestiti o di altre forme di garanzia per progetti di internazionalizzazione. Se ci fosse necessità, se ritenete che qualche collega italiano della holding, della parte finanziaria italiana voglia approfondire determinati temi che possono anche andare oltre la traiettoria Italia-Brasile chiaramente sempre per il tramite di Adriana e Graziano Messana io sono a disposizione. Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie a lei. Dottore Mainardi condividerò dopo l'evento. condividerò qualche altra domanda. Se è tutto chiaro, penso che possiamo ringraziare a tutti per questa opportunità. Veramente questo è un servizio che siamo lieti di condividere in prima puntata con voi in una condizione veramente esclusiva. La Camera, colgo l'occasione anche per condividere la soddisfazione che esattamente un anno fa era eletto il nostro presidente Graziano Messana. Ora siamo un anno con questa camera più dinamica e vorrei ringraziare a tutti voi che sono i nostri soci che ci seguono in questa sfida di questo periodo pandemico. Siamo qui per aiutarci. E non so se Dottor Calvani vuole fare qualche parola di chiusura perché dato che non ci sono le domande possiamo concludere. Aggiungo solo che questo periodo pandemico chiaramente oltre tutti gli aspetti negativi che tutti conosciamo almeno ha portato qualcosa di positivo. Uno degli aspetti positivi è che questi temi di finanza agevolata, finanza alternativa in Italia sono stati notevolmente rivisitati. e quindi il cosiddetto temporary framework che è la modalità con cui sono gestiti a livello europeo questi aiuti fino al 31-12-2021 sono decisamente molto ma molto più appetibili rispetto a quello che era negli ultimi 20 anni. E quindi se c'è un'iniziativa di internazionalizzazione intesa come apertura, rafforzamento, potenziamento, sostituzione, affiancamento, tutto quello che può essere qualcosa di nuovo rispetto allo stato dell'arte il click day del 3 giugno mette a disposizione qualsiasi sia poi alla fine la percentuale io ritengo il 30, qualcuno il 40, qualcuno il 50, qualcuno 0, non penso 0 però metterà a disposizione un mix che sinceramente si è visto solamente a settembre non si vedeva da 20 anni e penso che non si vedrà per altri anni proprio perché è fatto in un'ottica di assistenza contro la pandemia quindi se ci fossero dei progetti nel cassetto delle idee di progettualità è il momento di metterli in pista questo non significa che voi il 3 giugno dovete aprire una filiale aprire un negozio aprire uno showroom rifare le opere murarie no, il 3 giugno va presentato un progetto dopodiché avrete tempo sicuramente fino a ottobre, novembre probabilmente anche dicembre nel rispondere a chi ha valutato durante questo tempo la vostra domanda se poi in realtà quello che avete presentato lo metterete in opera o meno quindi è qualcosa che va presentato per poi farlo per dicembre grazie, grazie Claudio attenzione al click day 3 giugno vorrei anche dire che se qualcuno dopo l'evento ci sono delle domande potete scrivere al italcan.com.br e condivideremo subito con il dottore Calvani a cui vorrei ringraziare per il suo tempo e per questa panoramica completa di queste opportunità ringrazio a tutti per essere qui con voi e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata grazie arrivederci grazie a tutti ciao